Noi siamo intanto, dobbiamo complimentarci con tutto quanto quello che è l'organizzazione della provincia di Pescara per quanto riguarda questa innovativa esperienza del parto dei sindaci e fortemente l'abbiamo sottoscritto e fortemente ci siamo impegnati su questo campo. Il Comune di Maropello ha realizzato un impianto fotovoltaico in privatistica di 2 MW e attualmente abbiamo messo in campo tutte le procedure per poter mettere i nostri asili, le nostre scuole, abbiamo due grandi palestre e sull'edificio comunale, nei pannelli solari che possono comunque darci energia pulita e nello stesso tempo fare anche risparmi di cassa in modo da poter devolvere i fondi comunali su altri settori. Questo è quanto abbiamo messo in atto, quanto stiamo facendo e quanto ci prefigiamo in futuro perché comunque siamo impegnati alla ricerca, dal rispetto di quel grande patto che è il 2020-2020 di Chioto a quale penso tutti i comuni e tutti gli stadi devono aderire e devono impegnarsi affinché ci sia lì. Per la questione della nostra vita, l'ambiente, la natura che è il fattore principale della vivibilità sul nostro pianeta, noi ci diamo da fare nel nostro piccolo, speriamo che anche gli altri facciano la stessa cosa.